Un saluto a voi, benvenute e benvenuti. Adesso cominciamo. Penso che mi conosciate tutti e tutte. Mi presento comunque per le persone che poi vedranno il video e che magari non mi conoscono. Il mio nome è Nunzia Coppola, il nome indiano è Mescalila. La faccio breve, cioè praticamente la mia formazione astrologica viene dall'India dove ho vissuto per 15 anni e poi viene dalla facoltà di astrologia di Londra dove ho frequentato il quadriennio, fatto la certificazione e la laurea e poi gli studi continuano e continueranno sempre. Ho avuto vari riconoscimenti nel mondo ma la cosa più bella e più importante per me è poter condividere con voi, con le altre persone, con tutte le persone possibili quello che ho imparato, quello che amo moltissimo e che sicuramente cresce di qualità anche grazie al vostro apporto. Quindi benvenute e benvenuti. Le conferenze sono un modo appunto per poter condividere con voi questo antico sapere che diventa anche nuovo sapere perché si arricchisce giorno dopo giorno con quello che di nuovo le scienze e le discipline astrologiche e non apportano a questo ramo meraviglioso della conoscenza. Ecco quindi io amo veramente fare queste conferenze ma non a livello diciamo così missionaristico devo portare la missione di portare l'astrologia nel mondo che mi sembra veramente una stupidaggine atroce ma semplicemente la gioia di un qualche cosa in cui credo, di un qualche cosa che funziona, di un qualche cosa che è affascinante portarlo, condividerlo con altre persone che magari o non ne hanno mai sentito parlare o la conoscono perfettamente e quindi è un modo per stare insieme attraverso la luce, la conoscenza e l'amore per gli astri. Ecco e quindi questo fa sì che questa scienza antichissima perché è veramente molto antica questa scienza questa disciplina forse più che scienza, questo fa sì che la filosofia, tutto quello che è legato a questa disciplina cresca sempre di più e ritorni a quello che era il suo splendore antico perché anticamente era una disciplina riconosciuta a livello mondiale, studiata e amata poi pian piano, pian piano, pian piano, pian piano, è entrata in un cunicolo di oscurità sia attraverso diciamo così l'apporto delle religioni organizzate sia attraverso l'apporto dell'illuminismo per quanto si chiama, si chiami illuminismo e finché poi per poter emergere, per poter continuare a vivere è diventata un qualcosa che è cresciuta nello sfondo, nel sottofondo ora crescere nello sfondo e crescere nel sottofondo da una parte dà vita fa continuare la vita di questa disciplina dall'altra fa crescere il ciarlatanesimo perché non essendo riconosciuta pubblicamente non essendo riconosciuta diciamo ufficialmente come scienza, come dottrina fa sì che chiunque si possa improvvisare quindi una delle ragioni appunto anche di portare il discorso dell'astrologia un po' a tutti ma di un'astrologia di alta qualità è anche quello di farla riemergere da questo cumulo di ciarlatanesimo che le è stato attaccato addosso ed anche per questo ci sono varie scuole che insegnano la disciplina astrologica con tutte le discipline accessorie perché l'astrologia è formata non solo di astronomia è formata di psicologia, di scienze, storia e tante altre cose quindi adesso nel mondo ci sono varie scuole riconosciute anche che danno anche dei riconoscimenti come quella appunto che ho frequentato io in Inghilterra e quindi anche la scuola che ho fondato io che si chiama Stravidia che accomuna sia la disciplina occidentale dell'astrologia moderna sia la disciplina orientale dell'astrologia karmica per farne un tutt'uno in modo da unire e non separare da includere piuttosto che escludere bene quindi i livelli ovviamente sono diversi c'è chi ha solo la curiosità di apprendere però vuole apprendere bene c'è chi ne vuole fare una professione quindi ognuno poi sceglie il modo in cui vuole approfondirla attraverso i vari corsi che ci sono di cui già sono iniziate le iscrizioni e le iscrizioni le chiuderemo tra poco alla fine di dicembre per poi cominciare i corsi a gennaio chi vuole delle informazioni può scrivere ad associazione giaiavidia.gmail.com oppure telefonare 338-3018-220 risponderò io ovviamente che sto organizzando il tutto allora eccoci di che cosa parleremo oggi oggi parleremo di Nettuno Nettuno più che mai è importante in quest'epoca che stiamo vivendo è anche importante per il discorso che ho fatto sull'astrologia poi andremo a vedere perché io ho messo un pochino delle parole delle frasi chiave per questo Nettuno cielo e acqua cielo e acqua perché? perché dal punto di vista occidentale Nettuno rappresenta l'acqua bene? dal punto di vista poi che andremo a vedere dopo quello indiano la divinità che è stata associata nell'astrologia moderna a Nettuno è un'antichità antica che si chiama Varuna con la sua Shakti che si chiama Varuni poi telepatia ecco vedete ho messo due sembrano delle polarità ma sono due possibilità che si possono vivere attraverso Nettuno la telepatia o il delirio di onniveggenza l'empatia e l'adescamento la manipolazione la trascendenza e la fuga la devozione e la dipendenza il dolore cosmico e l'anestesia non sentire più niente identificazione e plagio identificarsi con una persona o plagiare una persona santità e follia doti speciali e charlataneria tutte queste cose appartengono tutte a Nettuno Nettuno risveglia illumina e ispira capolavori soprattutto musicali perché è molto legato all'arte ma soprattutto alla musica diffonde i suoni e sublima le forme diffonde i suoni perché diffonde i suoni attraverso il ritmo dell'acqua che rappresenta appunto il suono e sublima le forme anche le forme più semplici le trasforma in qualche cosa di meraviglioso in qualche cosa di appunto sublime magnifico Nettuno confonde addormenta e ninna i deliri però nello stesso tempo che cosa fa Nettuno? Nettuno è anche fonte di confusione anzi li culla i deliri con la sua musica con le sue onde culla i deliri facendoli ancora più addormentare rendendoli ancora più profondi altera i pensieri e offusca le coscienze navigandosi i flutti di Nettuno al di là delle sue brume delle sue nebbie appare Varuna Varuna è il corrispondente il corrispettivo hindu di cui vi parlavo prima poi l'andremo a vedere nei particolari dopo e concluderemo poi questa serata con una esperienza di Yoga Nidra che è la parte Nettuniana molto bella molto molto sublime molto cosmica iniziamo proprio con uno dei versetti dedicati a Varuna ed è antichissimo questo versetto pensate che appartiene a Rigveda che è il più antico dei Veda le stelle che la notte vede in alto di giorno vanno altrove impossibile violare le leggi di Varuna perché la luna si muove ogni notte guardando ovunque ecco un versetto molto sibillino molto ma anche molto chiaro però lo andremo a vedere dopo adesso ecco l'abbiamo utilizzato giusto un pochino come invocazione allora cominciamo come sempre dal cielo di oggi andiamo a vedere Nettuno dove si trova che cosa fa oggi sia nel tema tropico sia in quello siderale cominciamo dal tropico che è più vicino all'occidente Nettuno si trova nei pesci si trova proprio dove dovrebbe stare cioè praticamente a casa sua perché il segno che appartiene a Nettuno o il domicilio di Nettuno se così vogliamo dire è proprio il segno dei pesci quindi lì ci sta bene ma non è che oggi sia entrato nei pesci Nettuno ci stiamo già da parecchio Nettuno è entrato nei pesci ad aprile 2011 poi ha avuto una retrogradazione come quella che abbiamo visto la volta scorsa è rientrato il 3 aprile e ci resta ancora per un po' fino all'inizio tra la fine del 2025 inizio del 2026 nel 2018 sarà proprio alla metà dei pesci a 15 gradi circa quindi tutte le persone che hanno pianeti posizionati a 15 gradi e che quindi formano degli aspetti con Nettuno saranno profondamente toccati da questa energia Nettuniana bene? qui ed ora adesso in questo momento qui in quale casa si trova Perugia? ecco perché adesso quello era un quadro molto generale se vogliamo vedere dal punto di vista della situazione nostra di gruppo oggi dove va a trovarsi questo andiamo a vedere le case e allora ora è qui si trova nella decima casa che è la casa della realizzazione no? della realizzazione attraverso una corrente collettiva perché questo Nettuno ha un valore collettivo più che individuale che cosa indica? Indica una sensibilità sociale che porta alla ricerca di nuovi orizzonti insieme la ricerca di nuovi orizzonti insieme tanti occhi che guardano proprio come quelli di Varuna che vedremo dopo perché Varuna corrispondente corrispettivo di Nettuno è chiamato anche colui che ha mille occhi quante sono le stelle le stelle sono i suoi occhi e guardano dappertutto ecco e quindi questo è questo sguardo sociale che dovrebbe essere però dedicato al bene comune diciamo che quello che tutti noi qui oggi desideriamo è veramente il bene comune adesso al di là della conferenza al di là di quello che stiamo facendo è un qualche cosa che sicuramente sentiamo dentro di noi andiamo a vedere invece adesso dal punto di vista siderale dal punto di vista siderale invece si trova lassù in acquario e si trova in acquario come quando si trovava ovviamente quando è stato scoperto quando è stato scoperto poi lo vedremo dopo Nettuno si trovava in acquario nella costellazione dell'acquario ovviamente nel segno dei pesci ma nella costellazione dell'acquario e ovviamente ci resta fino al 2025 inizio 2026 adesso qui i significati si spostano cambiano leggermente sono un po' diversi da quelli che abbiamo visto prima anche perché nel qui ora di adesso la casa occupata da questo Nettuno in acquario è la nona che è la casa della conoscenza è la casa del misticismo però trovandosi degli studi superiori anche trovandosi in acquario che è segno di cambiamento implica spiega indica anche una specie di crisi religiosa un momento di confusione nello stesso tempo questo momento di confusione porta a volere delle esperienze mistiche differenti da quelle solite perché Nettuno qui diventa di natura uraniana perché si trova appunto in acquario e anche l'attrazione per i grandi viaggi ora nel piccolo del nostro gruppo come possiamo vedere questo possiamo vedere questo che è l'attrazione per la conoscenza superiore ma in che modo attraverso delle vie che non sono le solite che troviamo non so qui a Perugia qui che troviamo in generale qui quindi un bisogno di volere lo stesso afflato mistico di cercare la conoscenza superiore di cercare la filosofia di cercare queste scienze altre attraverso uno sguardo diverso da quello che è il solito questo ci mostra adesso questo Nettuno siderale qui ed ora in questo momento ora andiamo a vedere un po' la storia della scoperta di Nettuno perché è veramente interessante e a me piace tantissimo è una delle delle storie di scoperte più che trovo più interessante ed anche più conforme alla natura di Nettuno allora le prime osservazioni Nettuno ovviamente non è visibile ad occhio nudo quindi non poteva essere visto prima dell'invenzione del telescopio che risale come sapete a Galileo Galilei Galileo Galilei aveva visto qualcosa attraverso il suo cannocchiale l'aveva visto anche Jerome Lalande e perfino John Herschel colui che aveva poi scoperto Urano ma nessuno dei tre aveva capito che si trattava di un altro pianeta l'avevano semplicemente avevano individuato un corpo ok ma non sapevano e non pensavano soprattutto che fosse un pianeta quindi praticamente per quanto l'avessero visto non va a loro il merito della scoperta perché non l'avevano riconosciuto poi che cosa succede col passare degli anni osservando il cielo osservando Urano osservando il moto di Urano si notano delle irregolarità voi sapete come avete visto la volta scorsa che ogni volta che si notano delle irregolarità un po' gli astronomi impazziscono cercano di capire che cosa c'è che cosa non va eccetera e quindi tutti a studiare queste irregolarità di Urano finché due persone nello stesso tempo uno in Inghilterra e uno in Francia notarono capirono attraverso un lavoro matematico piuttosto che un lavoro di osservazione lavorando matematicamente sul fenomeno allora John Adams inglese e Urban Verrier francese con dei complessi calcoli individuarono la possibilità di un altro pianeta di pensarono attraverso questi calcoli noi possiamo capire che le irregolarità di Urano sono dovute a un qualche pianeta che è nelle sue vicinanze e che causa queste irregolarità fecero la stessa identica scoperta indipendentemente l'uno dall'altro con gli stessi risultati allora ebbe più fortuna Le Verrier perché cosa fece Le Verrier Le Verrier mandò inviò le sue tabelle di calcolo a un altro scienziato che si trovava in Germania a Berlino a Gottfried Galle allora che cosa fece Galle Galle prese il tabulato matematico con gli appunti di Le Verrier e andò a osservare nel cielo andò a osservare e trovò veramente un nuovo corpo celeste che non aveva nome in quel momento ma non solo ma cosa meravigliosa cosa veramente splendida è che tra l'osservazione i tabulati fatti solo matematicamente senza l'osservazione c'era solo un grado di differenza un grado guardate che precisione aveva quella matematica raggiunto Le Verrier e anche l'altro ovviamente anche Adams per poter scoprire questo corpo celeste e quindi praticamente si capì no che esisteva questo corpo e fu individuato dove come dicevamo prima nella costellazione dell'acquario si trovò nella costellazione dell'acquario e la cosa poi più sorprendente è che solo 17 giorni dopo fu trovato anche il primo satellite di Nettuno e fu chiamato Tritone però per i nomi ci fermiamo ancora un attimino fu trovato un satellite e poi non sappiamo il nome immaginate le polemiche che nacquero tra la Francia e l'Inghilterra che già da sempre sono state un po' rivali tra di loro e adesso non lo sono più ma sono state spessissimo rivali tra di loro perché ognuna di queste nazioni voleva il suo scienziato come scopritore di Nettuno va bene loro due magari non erano nemmeno in lotta tra di loro ma i loro paesi lo erano allora il 5 ottobre del 46 Louis Philippe il re di Francia nominò Leverrier ufficiale di corte e praticamente nel mondo intero fu Leverrier considerato colui che aveva scoperto Nettuno anzi ebbe anche degli impegni come dire degli incarichi di corte molto importanti all'università di Parigi eccetera eccetera ovviamente in Inghilterra gli inglesi fecero la stessa cosa premiarono Adams si dedero una cattedra eccetera eccetera però il nome resta legato al Verrier come dicevamo come dicevamo come dicevamo come dicevamo prima 17 giorni dopo la scoperta William Lassel individuò il primo satellite vedete oh adesso andiamo a vedere adesso andiamo a vedere l'assegnazione del nome com'è che questo nuovo pianeta fu chiamato Nettuno all'inizio all'inizio Galle colui che l'aveva osservato per prima dai tabulati di Leverrier voleva chiamarlo Janus e anzi scrisse una lettera a Leverrier dicendo guardate ecco vi porto esattamente le parole che lui diceva forse questo pianeta sarà degno di essere chiamato Janus dio dei più antichi dei romani così la doppia faccia sarà significante per la sua posizione alle frontiere del sistema solare ora Leverrier non era assolutamente d'accordo su questo nome soprattutto legato a questo tipo di ragionamento perché per lui Nettuno non era alla frontiera c'erano sicuramente altri corpi celesti dopo per cui rifiutò il nome non solo di notte sognò un vecchiettino con una barba bianca lunga che gli disse chiamalo Nettuno e così decise che si doveva chiamare Nettuno e ovviamente fu scelto il nome che lui aveva dato ecco così com'è che abbiamo il nome di Nettuno come abbiamo detto prima Nettuno fu scoperto quando si trovava quasi ai limiti dell'acquario stava quasi per uscire dall'acquario e pochi anni dopo entrò per la prima volta nella costellazione dei pesci stiamo parlando di costellazioni adesso andiamo a vedere come è formato questo questo Nettuno no morfologicamente allora dista e lontanissimo dal sole 4.495 milioni di chilometri dal sole bello lontano lontano questo già lo sapevamo che è invisibile occhio nudo è formato da che cosa da ghiacci gas ammoniaca e metano poi ci sarà qualche altra cosa che sicuramente sarà scoperta perché le scoperte di questi corpi celesti non sono ancora terminate continuano nella parte centrale è stato scoperto da Weijer che ha un nucleo roccioso un nucleo roccioso proprio al centro diciamo così un cuore di roccia se così vogliamo chiamarlo è l'ottavo pianeta per lontananza dal sistema solare è il quarto per grandezza quindi è bello grande poi proprio poco fa pochi anni fa nel 1989 la sonda Weijer ha scoperto che ha cinque anelli e sei lune sei lune sarebbero sei satelliti uno vi ricordate l'era scoperto subito dopo era stato scoperto 17 giorni subito dopo la sua scoperta andiamo a vedere il primo allora ovviamente sempre per strane ragioni o per ragioni nemmeno troppo strane il nome greco il nome che viene scelto e che viene dato al pianeta ha sempre un po' di assonanze con il mito perché per quanto noi vogliamo rendere l'astrologia nuda e cruda dal punto di vista scientifico renderla profondamente scientifica c'è sempre il mito altrimenti non è astrologia è solo astronomia astrologia per essere tale ha bisogno anche del mito il mito è dato anche dagli astronomi che affibiano che danno i nomi ma noi astrologi ne vediamo poi la realtà recondita il significato che spesso si accomuna a quelli che sono poi i dati morfologici del pianeta allora chi era questo signore Nettuno era il figlio di Kronos no? quindi era uno di quei fratelli che doveva essere distrutto dal padre quando poi riemersero i fratelli dopo la lotta ognuno ad ognuno fu dato una parte del reame cosmico no? allora a Zeus cioè Giove fu dato il dominio sul cielo ma anche sulle terre a Plutone Ades il mondo sotterraneo come voi saprete poi faremo anche una conferenza su Plutone appena possibile e lui Poseidone appunto Nettuno ottenne le acque del mare e nelle acque del mare fece costruire un palazzo meraviglioso in cui viveva e in cui regnava ecco poi viaggiava anche all'esterno del mare su di una carrozza d'oro con dei cavalli meravigliosi che addirittura avevano una criniera d'oro ecco diciamo aveva un suo modo di essere e come tutti gli dei greci ebbe tanti amori allora la prima donna che sposò fu Alia o Alia adesso non so esattamente come si pronunci poi dopo ebbe tante altre donne tra cui anche Demetra eccetera eccetera comportamento dei dei greci degli dei greci voi sapete non è mai stato molto simpatico non sono proprio un esempio di quelli da seguire e quindi Nettuno non era da meno andiamo a vedere invece qual è il suo glifo il glifo con cui è stato ah praticamente dimenticavo quando Leverrier quando Leverrier scrisse a Galle gli disse anche guarda il nome è Nettuno e il suo simbolo è il tridente quindi questo simbolo del tridente è stato scelto innanzitutto prima dagli astronomi poi è passato ovviamente anche nel mondo dell'astrologia Nettuno portava appunto il tridente e il tridente è il suo glifo ora il tridente dal punto di vista occidentale è un segno qualcosa che rappresenta l'acqua no? perché rappresenta appunto Nettuno che era il signore dell'acqua e che aveva potere attraverso questo tridente con un solo colpo provocava terremoti e maremoti oppure quando stava con la luna dritta faceva uscire l'acqua dalle rocce scusate dal punto di vista invece orientale il tridente non è un oggetto d'acqua ma è un oggetto di terra è un oggetto di terra ancora adesso se voi andate in India vedrete per esempio gli asceti che portano il tridente vedrete le divinità molte divinità con il tridente e poi vedete su terra degli asceti con il tridente e questo tridente quando non è retto in mano quando non è portato nelle mani da questi asceti deve essere sempre ben piantato a terra perché rappresenta appunto un elemento di terra rappresenta qualche cosa che nasce dalla terra e che vive sulla terra e poi ha soprattutto un significato molto speciale che il tridente occidentale non ha allora ha il significato delle tre qualità che rendono possibile la realtà e che sono Icha Gyan e Kriya Icha la volontà Gyan la conoscenza e Kriya l'azione in che senso che queste tre cose questo tridente rappresenta queste tre questi tre principi attraverso cui attraverso la cui interazione è possibile vivere vivere creare fabbricare attivarsi tutto ciò che noi facciamo se segue questi tre principi di solito lo segue questi tre principi ha una sua continuazione qualsiasi cosa noi vogliamo fare che devo dire facciamo un esempio accendere il computer no prima io devo avere la volontà di volerlo fare Icha Ghyena devo sapere come si fa Kriya lo faccio ma così la stessa cosa con qualsiasi altra cosa ci sono queste tre qualità insite nella natura terrestre terrestre scusate terrena per poter poi andare avanti quindi il tridente dal punto di vista orientale rappresenta questa realtà va bene rappresenta ha questo significato che è un significato molto profondo ovviamente ogni nettuniano ogni persona con il suo nettuno piuttosto che ogni nettuniano perché il nettuno ce l'abbiamo tutti da qualche parte propende per una qualità a una come dire un livello più alto o più basso di una di queste tre qualità e questo ci dà la qualità del tipo di influenza nettuniana che noi viviamo una delle divinità molto importanti che porta il tridente che prege il tridente è Shiva il dio Shiva questo bel signore che è qui questo bel dio molto affascinante molto bello e oggi in particolare dal punto di vista della lunazione il suo giorno perché perché oggi la luna ci porta un suo messaggio allora adesso andiamo e cominciamo a vedere la differenza tra appunto tra il nettuno occidentale e il varuna orientale allora dicevamo prima che in india l'astrologia antica indiana si fermava si fermava a saturno mentre invece l'astrologia moderna indiana ha implicato anche gli altri pianeti extra saturnini associandoli però alle sue antiche divinità non è che potevano fare metà divinità indiana e metà greche no hanno attinto dal loro dalla loro conoscenza quindi in occidente noi abbiamo Nettuno che è il signore del mare e delle acque domina guida i mostri marini e governa le tempeste ma anche governa il mare placido momento in cui si sta bene e regge il tridente dall'altro lato noi abbiamo invece varuna eccolo qua varuna significa colui che tutto avvolge ecco l'etimologia della parola varuna significa colui che tutto avvolge perché abbiamo visto che nel cielo e nell'acqua presiede all'ordine cosmico fa funzionare guardate un po' fa funzionare il sole ed è il governatore delle piogge che come sapete in India sono importantissime no tutto dipende molto dal monsone se c'è troppo monsone se non ce n'è abbastanza ora la storia di Varuna è molto differente da quella di tutte le altre divinità indiane perché man mano che diciamo così i secoli i millenni sono passati la sua figura ha subito dei cambiamenti va bene benché fosse già presente nei Veda man mano che si è andato avanti ha cambiato addirittura reame ha cambiato addirittura gli elementi che governava in ogni modo in ogni modo è restato sempre legato sia all'acqua e al cielo tanto che è chiamato anche il signore che salva gli annegati e poi nella storia delle direzioni nella cosmologia Hindu che adesso non posso spiegarvi perché veramente ci vorrebbe molto tempo che è formata dalle dieci direzioni cioè le direzioni quattro direzioni che conosciamo noi le direzioni intermedie sud est nord est e compagnia più le due direzioni nadir e zenith allora in ognuna di queste direzioni c'è una divinità reggente che fa da custode di quella direzione custode sia in entrata che in uscita soprattutto quando le persone si dedicano alla meditazione si dedicano alla meditazione soprattutto sui mandala sugli jantra bisogna passare attraverso queste porte che sono custodite da questi guardiani lui è il guardiano dell'ovest poi è anche il garante dell'ordine cosmico l'ordine cosmico che si chiama rita proprio come il nostro nome italiano rita ecco si scrive in un altro modo ovviamente la parola rita che deriva da ritu sanscrito significa l'ordine cosmico e rappresenta anche le stagioni perché le stagioni sono figlie dell'ordine cosmico va bene quindi lui come rettore dell'ordine cosmico regge anche la possibilità di far arrivare le piogge nel periodo giusto e nella quantità giusta successivamente in secoli successivi fu anche proclamato re dei nagari dei serpenti insomma in altre parole e ha una cosa stranissima cioè gli è stata data gli è stata scoperta non lo so come dire una un'associazione molto speciale praticamente sempre per la storia che i suoi occhi sono tutte le stelle del firmamento e che quindi può vedere dappertutto è colui che scopre che scopre le menzogne e che scopre i bugiardi va bene e quindi grazie con l'aiuto della luna niente può scappare a Varuna poi lo vedremo nel suo inno finale alla fine solitamente non ci sono moltissime immagini di Varuna ce ne sono poche quelle più originali portano il colore azzurro della sua pelle poi porta un laccio porta il parasole parasole perché era un come dire un simbolo di regalità più che altro e cavalca o un elefante o il makara il makara praticamente è il corrispondente indiano del segno capricorno che però non è una capra ma è un animale misto mezzo coccodrillo e mezzo altri animali quindi poi altro significato corrisponde alla parte oscura del cielo ma anche alla parte oscura del sole quando di notte scompare quindi rappresenta anche tutte le nostre parti oscuri ora la differenza delle divinità occidentali molta importanza ed uguaglianza viene data anche alle compagne di queste divinità infatti lui ha una compagna che si chiama come lui e che si chiama Varuni e sia lui Varuna che Varuni sono le divinità che presiedono lo suaristana chakra ovviamente il chakra dell'acqua quindi quando si medita sullo suaristana quando si medita sul secondo chakra bisogna bisogna fare un passaggio attraverso questi due guardiani dello spazio e quindi poter poi proseguire nel reame delle proprie acque e di quelle cosmiche ecco perché per esempio nessuno vi può svegliare i chakra perché i chakra sono un'energia sottile sulla quale meditare con devozione verso le divinità che presiedono e non sono merce di scambio da poter sviluppare aprire o chiudere a piacimento eccola qui Varuni Varuni è molto ma molto vicina ai significati nettuniani sia quelli positivi sia quelli negativi ma anche proprio al Nettuno occidentale perché la dea Varuni è la signora sia delle acque fresche sia delle acque bollenti le acque di fuoco le acque di fuoco sono gli alcolici per esempio ma non solo quelli sono per esempio gli alcolici e l'essenza del nettare divino il nettare divino vi ricordate la storia dell'Ambrieta nell'oceano ma anche ma anche la signora delle sostanze tossiche proprio come Nettuno indica l'energia del Soma appunto la bevanda degli dèi della meditazione e delle iniziazioni questo indica Varuna Varuni o Varunani ma nello stesso tempo perché ci sono sempre delle polarità indica anche la dipendenza dalle sostanze che alterano la coscienza alcol droghe e compagnia e per quanto vi possa sembrare strano ebbene sì indica anche la dipendenza dalle esperienze spirituali indica l'illusione di ciò che si può ricavare dalle dubbie esperienze mistiche quindi indica sia la dipendenza dalle esperienze spirituali reali sia la dipendenza dalle esperienze spirituali mistiche dubbie non reali e qui andiamo a finire un attimino a quei diagrammi iniziali che abbiamo visto del Nettuno attuale di questa epoca allora qui lo vedete questo è quello siderale andiamo a vedere la parte un pochino tossica di questa storia Nettuniana se così possiamo dire allora la parte tossica rischiosa del Nettuno di questa epoca visto con lo sguardo siderale è l'illusione di ottenere l'illuminazione per esempio tra le tante cose visto che è uraniano la storia acquariana e quindi anche molto legata all'elettronica e al mondo virtuale per esempio spigolando insegnamenti su internet per crearsi un'identità vicaria avete visto che adesso è facilissimo voi andate su internet trovate tutte le indicazioni possibili immaginabili versetti di ogni genere eccetera e quindi è molto facile che persone si possano improvvisare attraverso quello che trovano su internet che è trovato molto facilmente quindi c'è un'auto in vestitura di un cammino che non è mai stato fatto ma che passa attraverso il web la rete se andiamo invece a vedere nell'altra parte tropica dove la vediamo l'intossicazione nettoniana qui nell'illusione di risolvere i problemi o salvare gli eletti con la pratica in sé praticamente tutti questi movimenti che in qualche modo predicano annunciano che sta finendo il mondo che sta finendo qualcosa e che quindi se si aderisce poi si è tra i salvati tra le persone elette e quindi il bisogno di acquisire il potere illusorio che porta poi al fanatismo religioso o settario se vogliamo quindi ecco in che modo la parte negativa di Nettuno scusate si può manifestare quando ci sono delle dissonazioni le distanze adesso andiamo a vedere un po' di tecniche e un po' di interpretazione poi andremo veramente in esempi sia positivi che negativi allora qual è il domicilio dei pesci dove sta bene Nettuno nel segno dei pesci gli appartiene dove non sta bene come se stesse proprio esiliato appunto in vergine chi ha Nettuno in vergine o praticamente la generazione con Nettuno in vergine è una generazione in cui Nettuno è molto sacrificato è messo da parte è esiliato mentre invece in acquario di tutto di più come abbiamo visto prima in acquario è esaltato al massimo questo Nettuno quindi nell'esagerazione più totale in bene e in male poi il Leone invece si trova in caduta un Nettuno che si trova in Leone porta a una generazione in cui Nettuno ha perso tutte le sue caratteristiche è quasi irriconoscibile poi andiamo a vedere il ciclo di Nettuno così anche voi per rapporto alla vostra età potete fare un piccolo conto e capire praticamente dove siete se rientrate in questa età allora quanto tempo resta in un segno circa 14 anni non mesi allora noi abbiamo il quadrato ognuno di noi ha il quadrato crescente di Nettuno a se stesso Nettuno forma un quadrato con il Nettuno di nascita quando abbiamo circa 42 anni quando abbiamo circa 42 anni poi ci sono anche altri transiti nel frattempo vicini a questi andiamo un pochino nel mondo delle nebbie Nettuniane c'è qualcosa che comincia a non funzionare poi abbiamo l'opposizione 83 anni quadrato calante lasciamolo perdere poi tutto può essere e il ritorno a 165 anni quindi non vedremo mai quello comunque a livello collettivo il ciclo di Nettuno che cosa significa significa l'emersione nel migliore dei lati possibili del lato mistico dei sogni degli ideali di una generazione e gli interessi spirituali va bene da a livello individuale se invece noi andiamo a vedere il nostro Nettuno che forma una qualche posizione di un qualche aspetto con il Nettuno di nascita il Nettuno del transito con il Nettuno di nascita a 42 anni e poi a 83 anni se non ci siamo riusciti a 42 anni c'è di nuovo un grande afflato un grande bisogno un grande desiderio di spiritualità di sogno di creatività insomma di accoglienza degli ideali degli ideali sublimi degli ideali interiori nello stesso tempo se questo Nettuno è manmesso alla nascita o se durante il transito incontra si trova in aspetti non buoni con gli altri pianeti mentre forma il nostro ciclo e allora abbiamo il contrario l'illusione l'avidità l'inganno il cinismo la charlataneria e la disillusione ecco perché Nettuno è queste cose adesso andiamo a vedere la simbologia nettuniana in sé Nettuno Nettuno dissolve i confini da delle irregolarità praticamente come è stato scoperto Nettuno Nettuno è stato scoperto a causa delle irregolarità di Urano ora astrologicamente Urano rappresenta la liberazione dagli schemi rappresenta il bisogno di libertà in questo bisogno di libertà in questa liberazione dagli schemi c'era qualcosa di irregolare ed era dovuto appunto a Nettuno che confonde un pochino ci confonde al punto tale che a volte stiamo veramente dissolvendo i confini per andare verso l'infinito per andare verso il cosmo per incontrare le persone per l'empatia verso gli altri altre volte invece è proprio l'illusione e quindi con Nettuno bisogna essere capaci di lavorare su se stessi per capire se quel confine è un confine illusorio o è un confine veramente di unione con gli altri attraverso il dissolvimento di ciò che lo impedisce quindi andiamo a vedere ancora più da vicino sia i significati generali che gli altri allora i positivi il desiderio di unione universale che porta poi alla compassione no le visioni le visioni veramente le visioni vere diciamo non visionarismo visioni vere la filantropia la fede lo spirito di sacrificio l'identificazione con il proprio ideale con la persona che si segue con l'universo con l'infinito con la divinità la buona fede e la comprensione al negativo invece che cosa abbiamo abbiamo ora un po' tutto il contrario di quello che vedevamo prima il desiderio di dimensioni evasive droga gioco alcol shopping compulsivo sono tipiche situazioni di un nettuno malmesso il plagio lì era l'identificazione qui è il plagio o plagio subito o plagio perpetrato o lasciarsi plagiare o al contrario plagiare la fraudolenza invece della buona fede della buona fede ci sono tutte le storie di millanteria di ciarlataneria e compagnia e la comprensione che poi non è più comprensione diventa manipolazione vedete come è praticamente specifico nelle sue polarità il nostro nettuno però l'energia nettuniana è un'energia meravigliosa poi di per sé no dipende da come è messa nel nostro tema natale da come la viviamo ma di per sé è l'energia che ci fa avere dei presentimenti ci ispira dei capolavori d'arte ci offre dei sogni profetici espande la nostra fede la nostra conoscenza scioglie i confini tra l'io e il mondo esterno tra il conscio e l'inconscio quindi diciamo è quella linea di confine che rende possibile i passaggi da una dimensione all'altra quindi nettuno ha una forza importantissima proprio come varuna tra cielo e acqua quando non è equilibrato vediamo sempre anche l'altro lato perché con nettuno questo bisogna fare bisogna vedere i due lati quando l'energia nettuniana non è equilibrata ci sono le allucinazioni il delirio vaneggiamenti e tossicodipendenza va bene a livello spirituale questa parte diciamo così lesa di nettuno che cosa ci dà anche in una persona profondamente spirituale profondamente mistica profondamente legata ai suoi ideali in un momento in cui c'è un transito difficile con un altro pianeta su di un altro pianeta no? per esempio su mercurio caduta dei principi disperazione fanatismo delirio alterazioni percettive del livello di consapevolezza cioè vedere proprio cose diverse da quella che è la realtà no? vedere una realtà alterata e la si vede vi capita spesso no? magari in una interazione con altre persone che voi avete detto fatto una cosa e l'altra ha visto proprio tutta un'altra storia ma completamente proprio avulsa da quello che voi avete fatto avete detto e la persona è convinta che sia così perché è nel pieno della sua energia nettuniana di confusione e quindi nasce poi la confusione perché poi Nettuno oltre ad essere il pianeta dell'illuminazione è anche il pianeta della confusione quali sono i personaggi nettuniani? quando io dico personaggio nettuniano non è semplicemente una persona che devo dire un pesci no? ma tutte le persone che hanno un Nettuno molto forte un Nettuno prominente per esempio in uno dei quattro angoli del cielo l'ascendente eccetera oppure è dignificato allora possiamo avere l'asceta meraviglioso asceta l'artista ma possiamo avere il criminale il musicista l'occultista il tossicodipendente il vate e il dissennato tutte queste cose sono quelle di Nettuno ma la cosa bella di Nettuno di un Nettuno ben messo è la compassione va bene? la compassione empatica attiva che al contrario può essere la perdita dei confini allora faccio un esempio no? viene da te una persona che ha bisogno di piangere e non può allora io vedo e sento il tuo dolore questa è l'empatia nettoniana entro silenziosamente nel tuo dolore e vivo con te l'assenza del pianto liberatore questo è ancora un livello più alto e compassione empatica poi entro nel tuo dolore lo vivo sulla mia pelle fino a piangere e allora finalmente tu piangi perché piangi con me e questa è la compassione empatica attiva un livello ancora più alto quando però io non so più se piango per te o per i miei dolori e quindi confondo te con me c'è la perdita dei confini e questo tipo di compassione non serve più a niente è chiaro? vedete tutta la storia nettoniana com'è? altissima compassione ma anche attenzione perché se non è legata ad una consapevolezza dei confini porta poi alla perdita dei confini ma anche potrebbe essere la perdita della propria identità no non necessariamente la perdita della propria identità bene e quindi in alcuni casi può anche indicare la menzogna può indicare tante cose non reali questo avviene quando la perdita di questa identità anche nel pieno della compassione è la parte diciamo così migliore in qualche modo del nettuno dissonante perché un nettuno dissonante un nettuno malmesso invece da cose un pochino più forti per esempio la difficoltà a inquadrare la situazione in cui ci si trova immaginate voi adesso nel caso precedente in una relazione d'aiuto vi arriva una persona e voi non sapete più se il suo problema se il vostro problema com'è che possiate aiutare questa persona insomma ecco poi nei rapporti con soprattutto nei rapporti d'amore quando da una parte identificarsi talmente con l'altro da essere tutt'uno e amarsi e l'altra invece con nettuno dissonante è proprio diventare dipendente dall'altro annullarsi completamente tanto da non avere più la propria personalità prendere degli abbagli e poi sempre quelli le droghe e tutto il resto e poi c'è un'altra cosa molto importante di questo nettuno dissonante che è il vittimismo la tendenza proprio a proporsi a disporsi e ad esporsi sempre come una vittima andiamo a vedere un esempio proprio grosso di un nettuno malmesso ma proprio bello grosso 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 che è quello di Charles Manson di cui tutti avete sentito parlare no? Charles Manson senza andare a vedere tutto il suo tema perché sarebbe lungo andiamo un attimino a isolare il suo nettuno in quinta congiunto a Marte va bene? Marte che è vicino a Nettuno governa l'ottava casa che è la casa appunto anche molto molto distruttiva e la prima casa che quindi ha anche il suo modo di esporsi il suo modo di farsi vedere Nettuno governa la dodicesima perché vedete la dodicesima in pesci quindi la casa della morte la casa anche della seclusione quindi questa congiunzione Marte Nettuno ci parla proprio di tutta la parte negativa di Nettuno che è il crimine la droga la manipolazione l'autoinganno la finta spiritualità noi voi conoscete bene le storie di Charles Benson che aveva veramente soggiogato delle persone dei giovani spingendoli a fare cose veramente estreme ovviamente un Nettuniano di questo genere un Nettuniano violento aggressivo criminale si serve sempre di persone sprovvedute di persone in qualche modo deboli perché solo persone sprovvedute e deboli possono cadere in un tranello ed arrivare a fare poi quelle cose che lui ha fatto ha spinto loro a fare come appunto come il caso di Sharon Tate il Gate Tate come si chiamava appunto tra l'altro lui si presentava come un guru un maestro di pace di non violenza quando invece era una persona estremamente violenta estremamente razzista e come entrò nel cuore di queste persone di solito si entra sempre in questo modo facendo apparire instillando la paura della diversità la paura dello straniero la paura del nero la paura dell'altro e quindi lui manipolando alcuni versetti della Bibbia faceva credere a queste persone che ci sarebbe stata prestissimo una lotta di razza in cui sarebbero stati distrutti tutti e quindi bisognava fare qualcosa per fermarla ecco quindi questo fu uno dei suoi come dire dei suoi tranelli dei suoi trucchi come li vogliamo chiamare riusci a fare tante cose terribili di cui non stiamo a parlare ora un'altra cosa importantissima è che lui praticamente il suo Nettuno governa la casa dodicesima cioè la casa dodicesima in pesci questo Nettuno che si trova in casa quinta che è poi la casa della creatività ma è anche la casa dei discepoli la casa degli adepti con Marte governa la dodicesima casa che è la casa anche della prigionia ora se noi andiamo a vedere la vita di questo signore lui ha vissuto 83 anni da quando è nato fino a quando è stato in prigione lui ben 68 anni li ha vissuti recluso prima da recluso quando era bambino quando era piccolo perché fu messo in vari istituti eccetera eccetera poi da giovane adolescente rubava fa tante cose quindi in varie case di correzione cose di questo genere finché poi ecco è andato poi in galera dopo quando c'è stata tutta quindi lui praticamente ha vissuto 68 anni da recluso dei suoi 83 anni quindi in qualche modo c'è una storia nettuniana diciamo così lui è potrebbe essere diciamo il prototipo caratteristico o tipico di un nettuno malmesso ma di un nettuno poi sponsorizzato dall'aggressività di Marte che poi arriva alla criminalità ora la cosa importante da capire che un nettuno malmesso non sempre ci dà casi come questi casi di criminali casi limite ci dà anche storie quotidiane un po' strane di persone con qualche problema o che creano qualche problema senza arrivare a quegli estremi quindi non bisogna assolutamente pensare che un nettuno malmesso ci dia dei personaggi tipo Charles Manson eh quello no ma ci dà altre piccole cose io per esempio qui faccio qualche esempio per esempio un nettuno in terza che governa la settima e che ovviamente ha degli aspetti poco simpatici diciamo così nell'insieme del tema natale porta all'infedeltà e all'identificazione coatta che è immergersi negli altri o sostituirsi agli altri è uno strano caso di plagio insomma ci sono varie casistiche adesso andiamo a vedere allora ti chiede consigli e insegnamenti si avvicinano ti segue con passione ed entusiasmo si affida assorbe quando più è possibile senza portare a termine però quindi formazione compulsiva e incompiuta si identifica con il personaggio e non con la persona perde i suoi confini si trasforma nel personaggio demolizione della persona ora nella storia quotidiana di tutti i giorni questo non è così terribile come la storia di Manson è in ogni modo una storia di una persona che in qualche modo fa qualcosa che non è tanto positivo alleggerendo ancora di più questo alleggerendolo di più noi lo andiamo a vedere un pochino nei rapporti quotidiani normali quelle un pochino non tanto non tanto buoni ma più o meno nella norma che la persona prima ti si avvicina poi fa ambicizie eccetera poi dopo fa delle cose con te non le porta a termine e dopo va per esempio a calunniarti per prendere il tuo posto presso gli altri è un classico no? si vede questa è una delle storie piccoline di Nettuno va bene è un è diciamo una quotidianità di una di un certo modo di essere dell'energia nettoniana un altro esempio dal vittimismo alla calunnia questo è ancora un altro esempio individua la persona quindi fa la scelta la segue con passione ed entusiasmo si affida rende piccoli servigi per costruire la rete espone le proprie piaghe per ottenere senza limiti il lamento di cui parlavamo prima e l'avidità compulsiva si allontana quando non trova più disponibilità e quindi abbiamo l'allontanamento aggressivo sceglie una nuova pedina demolizione del benefattore precedente per accaparrarsi la nuova persona questa è un'altra storia nettoniana la spiego un po' meglio in una casistica insomma che di casi di persone diciamo così studiate un pochino attraverso la rete attraverso i personaggi pubblici eccetera eccetera allora che cosa succede succede che quando ci sono dei casi di persone per esempio che sono dipendenti dal gioco no gioco d'azzardo queste cose così o praticamente lo shopping compulsivo queste persone hanno sempre bisogno di rivolgersi a qualcuno per risolvere i propri problemi ok per risolvere i propri problemi quindi forse nemmeno consciamente nemmeno inconsciamente forse non lo so comunque capiscono subito qual è la persona che possono in qualche modo vampirizzare no la scelgono rendono un po' di servigi anche così piuttosto blandi e a un certo punto con i loro lamenti si fanno aiutare a un certo punto tu non ne puoi più non puoi più dare più di quello che puoi ecco allora cambia pedina va da un'altra persona e va a raccontare va a calunniarti dicendo che tu magari hai preso delle cose che si trova in un momento di difficoltà e a calapia l'altra persona questo è un caso cioè ci sono vari casi eh che veramente ho raccolto ed è un'altra espressione di Nettuno quella di prima invece nella casistica di quella di prima quella lì della persona sostitutiva è un'altra è un'altra storia quella quella è la persona che praticamente io non ci cioè mi fu spiegato psicologicamente sta cosa e mi sembrava un po' strana quando me la dissero durante un corso di formazione poi dopo facendo delle ricerche ho visto che in alcuni casi nettuniani è proprio così no? la persona la persona che ti è fedele oltre ogni limite sta sempre dietro di te non ti abbandona ad un attimo ti difende contro tutto e contro tutti in un'aniera un po' esagerata anche e la persona che spesso ovviamente con queste dissonanze nettuniane è lì semplicemente perché vuole prendere il tuo posto e finché è in una maniera naturale così sono le tipiche cose che si vedono per esempio nel lecchinaggio sul luogo di lavoro è ovvio che chi fa questo intende poi prendere il posto del manager o cose di questo genere ma ci sono casi anche un po' più profondi come quello che abbiamo visto prima che è la persona che invece può avere dei problemi psichici molto gravi che sono quelli che aspira a diventare te a diventare te in una maniera un po' diciamo così schizofrenica in una maniera un po' strana vi faccio un esempio sempre preso dalla casistica di cui prima perché poi l'ho studiata bene questa cosa per vedere fino a che punto allora diciamo ammettiamo che voi facciate che ne so un corso di aerobica ok vi vengono delle persone a prendere l'aerobica da voi eccetera eccetera anche per molto tempo per molto tempo poi improvvisamente una persona è chiaro che tutti possono diventare poi dopo insegnanti di aerobica però quando la persona che incontrate dopo che ne so un anno dal giorno in cui non l'avete vista più e vi dice oh sai tu stai facendo l'aerobica che ti ho insegnato io è lì che no sì 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 mi viene da ridere vedendo farti l'aerobica proprio guarda è proprio come quella che capita giuro veramente e quindi anche questa è una parte di Nettuno che perde si perde i suoi confini vi ricordate prima abbiamo detto che si dissolvono i confini per andare verso l'universo o verso l'empatia l'amore per gli altri e nello stesso tempo se è malmesso questo Nettuno porta questo tipo di dissolvimento dei confini della propria identità per appropriarsi di quella degli altri o addirittura in altri casi per proprio rinunciare alla propria perdersi faccio ancora un altro esempio sempre della mia casistica ecco qui mi espongo un po' nel dire questa cosa però mi va di dirla perché ci sono delle praticamente la compassione di Nettuno la compassione di Nettuno porta anche alla grande compassione verso tutte le specie esistenti ok quindi per esempio verso gli animali quindi nel calderone Nettuniano oltre alle varie persone ci sono anche le persone dedicate al veganesimo ok ora nel veganesimo stesso ci sono le varie sfumature di Nettuno e cioè la persona veramente così presa da amore verso gli animali no da aver fatto la scelta vegana veramente per un amore cosmico per un amore per una per un legame potente potente con gli animali poi invece c'è un altro gruppo di vegani che sono quelli che molto empatici verso l'animale ma pieni di odio per chi non è vegano al punto tale da maledire e predire il male la distruzione e la morte di chi non è vegano ok e poi c'è ancora un'altra parte un'altra parte dei vegani che è un modo per mascherare la propria anoressia ed è la parte più triste e più sofferente no quindi vedete questo per dire che Nettuno è sublime nella sua manifestazione come la persona vegana che veramente lo fa per amore per gli animali o è tanto infido da odiare chi non fa quella cosa oppure semplicemente confuso come la persona che maschera no la propria anoressia quindi una persona malata una persona che soffre attraverso una forma di veganesimo potente ora questo che cosa ci insegna Nettuno ci insegna a non fare di tutta un'erba un fascio no a prescindere dal fatto che noi siamo non siamo vegani vegetariani o carnivori quello che volete a prescindere da quello non vedere sempre no tutte le persone che fanno una determinata scelta sotto un determinato principio caratteristico positivo o negativo ci sono mille ragioni e Nettuno ci insegna proprio a distinguere perché è molto facile confonderci molto facile confondere noi stessi con i nostri giudizi verso noi stessi è molto facile confondere quello che fanno gli altri ecco quindi la compassione no è quella di vedere queste tre categorie di persone quelle di cui abbiamo fatto l'esempio adesso attraverso la loro storia perché ama gli animali e odia le persone al punto tale da augurargli la morte se mangia l'animale qual è il suo problema con la sua aggressività poi ancora un altro un altro esempio di veganesimo è quello della persona che in questo modo affonda nei recessi più profondi quell'aggressività che ha e che non vuole guardare in faccia in qualsiasi di questi quattro casi c'è da parte nostra un non giudizio magari una spiegazione della cosa ma non il giudizio ecco poi invece abbiamo facciamo un esempio adesso di un Nettuno eccellente su eh eccolo Gandhi Gandhi ha un Nettuno dignificato cioè nel suo luogo in pesci nella sesta casa che è la casa del servizio è la casa del lavoro è la casa della dedizione agli altri è la casa del farsi piccoli per poter servire gli altri del vedere l'ideale il lavoro come ideale e l'ideale come lavoro verso gli altri infatti eccolo qui in questa sesta casa il Nettuno del nostro meraviglioso Gandhi sta proprio a casa sua sta nella casa sesta e che cosa diceva Gandhi diceva non si può servire servire sesta casa non si può servire il paese facendo torto a se stessi e alla famiglia similmente non si può servire il paese facendo torto al mondo in generale perché il mondo è la tua famiglia eccoci con Nettuno dignificato e poi ancora sempre sul tema del lavoro visto che sono Nettuno in sesta casa se tutti lavorassero per il proprio pane e niente più ci sarebbe abbastanza cibo e tempo libero per tutti i nostri bisogni si ridurrebbero al minimo il nostro cibo si semplificherebbe allora mangeremmo per vivere anziché vivere per mangiare se è una delle vegano se è un vino se è certa casa la potenza anche gli animali si 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 Gandhi è un peggio per quello esatto lui era jainista per esempio seguiva la religione jainista che è una religione basata sulla non violenza ecco e quindi questo è un esempio appunto lui non era vegano era vegetariano è un esempio è un esempio appunto di aver scelto questa strada della non violenza per un afflato d'amore verso gli esseri animali ma è un afflato d'amore reale verso gli esseri animali perché poi c'era anche un afflato d'amore verso il mondo intero verso le persone non c'era odio per chi non era vegetariano come lui per dire l'ettuno non espande giove espande nettuno nettuno porta al confine nettuno porta al confine e quindi portando al confine apparentemente sembra rendere irregolare ciò che gli ha a fianco come appunto orano e poi invece se tu vai oltre il confine ti porta veramente verso l'espansione cosmica ma anche verso il sacrificio perché la sesta casa è anche la casa del sacrificio e trovandosi nettuno in sesta casa che di per sé è anche il sacrificio lui era pronto a sacrificare la sua vita per il bene dell'umanità cosa che poi accadde come vediamo quindi ecco questo è un esempio magnifico di nettuno adesso tra l'estremo dell'esempio orrendo di Manson e l'esempio magnifico di gandhi ci sono tante gradualità di mercurio di nettuno scusa tanti 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 migliaia quindi questi sono solo due esempi estremi nel bene e nel male questo per dire che il nettuno ci parla anche proprio di quelle che sono le nostre qualità i nostri difetti e nell'abbracciare i confini e nell'abbracciare i confini no nel valcarli a volte di qua a volte di là o nel fermarsi proprio sulla linea del confine ci insegna ad abbracciarci con i nostri difetti e con le nostre qualità con le nostre debolezze e con le nostre forze ci insegna anche che noi possiamo essere le persone magnifiche come le divinità e possiamo essere le persone completamente perdute in altri ambiti non siamo sempre no perfetti non siamo sempre tremendi tranne i casi limite appunto come dicevamo prima quindi sconfinare andare oltre i confini andare oltre i confini è empatia verso gli altri prima di tutto empatia verso se stessi verso i propri confini ma nello stesso tempo Nettuno insegna che bisogna valersi della forza di Saturno affinché lo sconfinamento non diventi perdita di se stessi ecco perché Nettuno ha bisogno di Saturno Saturno ha bisogno di Nettuno ora voi che venite qui da parecchio tempo siete abituati no a ciò che dico sempre che bisogna lavorare con i propri pianeti no bisogna fare qualcosa con i propri pianeti perché sapere che si trova in una determinata situazione che quella determinata situazione significa questo questo quello e quell'altro a poco serve a poco serve se non ci puoi fare qualcosa fatti conoscere l'astrologia praticarla o anche non praticarla ma sapere quello che qualcuno ti può dire sul tuo tema natale significa poi utilizzare al meglio le energie manifestate da questo pianeta ora Nettuno come abbiamo visto ne ha tantissime adesso possiamo andare a vedere però vediamone una molto speciale molto bella di Nettuna che è legato al sonno Nettuno è anche il pianeta del sonno e del sogno di tutte e due le cose no e sì adesso ci arriviamo sonno con i sogni si chiama in sanscrito si chiama Nidra Nidra e c'è un tipo di meditazione se così la vogliamo chiamare di pratica di Kriya come volete voi che si chiama Yoga Nidra che è lo yoga del sogno o del sonno ma differente da quello che facciamo di notte innanzitutto andiamo a vedere questo termine Yoga Nidra anche dal punto di vista diciamo così delle fonti dove l'abbiamo trovato per prima quando l'abbiamo trovato per prima nelle fonti indiane ovviamente praticamente nella storia di Vishnu c'era un periodo cosmico in cui Vishnu che è colui che è colui che mantiene l'universo che fa sì che la creazione non venga distrutta ma che continua a riprodursi a crescere c'è un periodo in cui Vishnu si addormenta e questo stato in cui Vishnu è addormentato si chiama lo stato di Yoga Nidra e lo stato di Yoga Nidra è uno stato in cui non c'è né la creazione né la distruzione è uno stato di mantenimento apparentemente passivo mentre invece tutto accade nel sottofondo ecco quindi la prima spiegazione della parola Yoga Nidra è quella legata ad una delle manifestazioni di Vishnu ad una delle azioni di Vishnu di Vishnu che dorme mentre tutte le sfere celesti vedete gli ruotano intorno e mentre respira come se altre sfere celeste uscissero dalla sua bocca attraverso il suo respiro in uno stato meraviglioso di quiete questa è l'origine della parola Yoga Nidra poi poi Nidra nell'accezione più quotidiana più normale significa anche pausa di riposo sonno ed è quello di cui tutti noi esseri umani abbiamo bisogno per poter vivere bene sapete bene quanto possa essere terribile soffrire di insonnia soffrire di insonnia può creare veramente degli squilibri dei problemi delle difficoltà non indifferenti perché noi come Vishnu addormentato nel suo Yoga Nidra noi abbiamo bisogno anche noi dei momenti di riposo questi momenti di riposo però non sono solo i momenti in cui dormiamo sono anche momenti di riposo dagli altri sono i momenti di ritiro anche per esempio faccio un esempio nella storia di una bellissima storia d'amore se queste due persone stanno sempre insieme non c'è un momento in cui ognuno si ritira quindi va in uno stato di quiete personale si consuma finisce ecco perché c'è bisogno anche di avere delle piccole pause perché la pausa non è la fine mentre invece Nettuno può portare alla paura che poi si trasforma in confusione che la pausa possa significare la fine di qualcosa no è una pausa non sappiamo quanto tempo durerà ma è una pausa ecco quindi Nettuno che cosa ci insegna anche quindi Nettuno ci insegna ad utilizzare Nidra come sonno Nidra come pausa e la cosa bella è che se io la do a te la pausa la prendo pure io o se la prendo io la do pure a te e diventa uno scambio pieno di rispetto esatto pieno di rispetto questo anche poi nelle situazioni non amorose in qualsiasi situazione in qualsiasi situazione relazionale va bene ora poi c'è lo Yoga Nidra ecco adesso andiamo allo Yoga Nidra Yoga Nidra come pratica non dico tecnica perché è brutto chiamare queste cose tecnica pratica pratica mistica pratica meditativa pratica di conoscenza ed è ancora qualcosa di diverso lo Yoga Nidra ha delle origini tantriche cioè praticamente nel cammino del tantra è stato creato tutto un percorso speciale basato appunto sul sulla pausa sullo Yoga Nidra che è però diverso dal sonno però perché si chiama Yoga Nidra? si chiama Yoga Nidra perché attraverso delle immersioni molto profonde ma anche brevi delle immersioni molto profonde dentro di sé attraverso qualsiasi tipo di meditazione da quella da quella guidata a quella con i mantra a qualsiasi altro c'è un momento in cui no? si perde la connessione con quello che c'è e si ha l'impressione di dormire si ha l'impressione di dormire e in realtà si dorme per pochi minuti se non per dire pochi attimi ma quei pochi minuti e quei pochi attimi di apparente sonno ma di Yoga Nidra hanno il beneficio di ben quattro ore di sonno ecco perché per esempio quando durante i seminari mi capita di vedere che le persone si addormentano io non le sveglio mai le lascio tranquilla a volte mi è capitato che qualcuno litigasse eh sta dormendo lascia 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 dormire perché sono attimi sono attimi e poi si risveglia la persona e si risveglia ristorata restaurata anche direi va bene quindi questo è lo Yoga Nidra ora prima andiamo piano piano nello Yoga Nidra cominciando prima dall'inno che fu scritto nel Rig Veda quindi antichissimo più di 6.000 anni fa a Varuna questo è un antico inno al dio Varuna partiamo da questo poi andiamo a fare una piccola esperienza di Yoga Nidra allora nello spazio senza fine o Re Varuna dal puro volere reggi ritta la chioma dell'albero verso il basso si protendono i raggi in alto il ceppo possano penetrare saldamente in noi i tuoi raggi ovviamente Re Varuna hai preparato un'ampia strada al sole perché possa percorrerla al senza piedi per potervi calcare i passi senza piedi al vento l'aria lui che scongiura la malattia mortale o Re dai cento mille medici ampia e profonda sia la tua grazia allontana niriti e sciogli i nostri errori le stelle che la notte si vedono in alto di giorno vanno altrove non si possono trasgredire le leggi di Varuna perché la luna si muove ogni notte guardando ovunque per questo io vengo a te celebrandoti con il carme per questo ti implora il sacrificante con le offerte non essere in collera o Varuna tu dalla parola lungipotente non rapirci la vita noi imploriamo che si plachi la tua collera o Varuna con prostrazioni preghiere e oblazioni tu possiedi potenza o lungimirante Re allenta gli errori che abbiamo commesso scioglie da noi il laccio superiore o Varuna scioglie il laccio inferiore scioglie il laccio mediano ecco perché lui ha un cappio nella sua iconografia avete visto Portereggio è un cappio poiché noi vogliamo o figlio di Aditi essere innocenti al comando e davanti ad Aditi ecco e questo è un inno antichissimo adesso facciamo questa esperienza non esperimento esperienza di yoga nidra allora chiudete gli occhi dedicati alla tua respirazione così come respiri in questo momento respira normalmente visualizza l'aria che entra e esce dai tuoi polmoni attraverso le narici per ogni respiro segui tutto il suo percorso dentro e fuori mettiti all'ascolto di tutti i suoni vicini e lontani senza identificarli come se si sentissi per la prima volta senza identificarli ascoltali semplicemente sentili perditi nei suoni abbandonando ogni pensiero se puoi lasciati cullare dal suono e visualizza lo spazio e visualizza lo spazio davanti a te lo spazio dentro è fuori di te visualizza i tuoi occhi visualizza il colore dei tuoi occhi visualizza il movimento dei tuoi occhi visualizza il movimento il movimento delle tue palpebre visualizza lo spazio tra le due sopracciglia visualizza il movimento delle tue palpebre visualizza il movimento delle tue palpebre visualizza un occhio in questo spazio un occhio un occhio interiore profondo immenso eppur infinitamente piccolo e nello specchio di questo occhio guarda guarda e vedi tutte le sfere celesti muoversi nello spazio infinito e su una di queste sfere riposa sognante e sorridente un dio e poi c'è un'altra sfera luminosa e ruotante e su questa sfera riposa sorridente e luminosa una dea e mentre respirano il dio e la dea dalla loro bocca emergono universi infiniti meravigliosi in uno di questi universi ci sei anche tu e mentre io resto in silenzio ti lascio alle immagini che emergono davanti ai tuoi occhi in questo universo in cui ti trovi grazie a tutti grazie a tutti adesso restato ad occhi chiusi piano piano con dolcezza ti alzi dolcemente ti alzi restando ad occhi chiusi e adesso una parte molto importante apri gli occhi e prendi le mani della persona che ti ha a fianco quindi a due a due mettetevi l'una di fronte all'altra una persona di fronte all'altra mantenendo il contatto di confine di contatto attraverso le mani ecco adesso apri gli occhi e guarda gli occhi della persona che è di fronte a te guarda il colore guarda il colore dei suoi occhi senza parlare per favore il colore dei suoi occhi la forma dei suoi occhi guarda il movimento dei suoi occhi le palpebre la forma degli occhi poi guarda le pupille ecco questo è il momento più importante perché queste pupille ti parlano queste pupille si muovono si dilatano si restringono sembra pure addirittura che qualche volta cambino di colore guardale ecco ecco i movimenti di questi occhi ma le pupille soprattutto ma tutti gli occhi ti raccontano qualcosa di questa persona immergiti perdi perdi il giudizio nel senso non ti deve importare se ciò che vedi è vero o non è vero se è una tua impressione o se non è accogli quello che vedi senza giudizio e gli occhi ti parleranno ti racconteranno ti racconteranno vedi ci sono momenti con emozioni differenti in questi occhi dalle più gioiose alle meno gioiose tante nuance tante storie ti raccontano questi occhi adesso resto in silenzio e tu in profondità vai negli occhi e ascolta e leggi ciò che gli occhi ti raccontano che forse nemmeno una persona sa di raccontarti grazie Adesso, invece, invece, sei tu che attraverso i tuoi occhi, nel silenzio, ma attraverso la voce degli occhi, dici qualcosa alla persona che hai di fronte. Lancia un messaggio. Comunica qualcosa alla persona che hai di fronte. Attraverso i tuoi occhi. Adesso, piano piano, chiudi gli occhi. Stacca le mani. Riprendi coscienza della tua persona. E apri gli occhi. Adesso confrontatevi un attimino per cinque minuti. E raccontatevi un attimino quello che avete vissuto in questo momento. Tra di voi, eh? Non c'è bisogno che io lo sappia. Non ha importanza. Ditevelo tra di voi. Grazie. 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 Quella è un'altra Nettunianità, quella è un'altra Nettunianità, c'è anche quello. Quindi non vediamo i grafici? No, 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 no. Eh ma io stasera non ho proposto questo, stasera ho proposto l'esperienza di Yoga Nidra. Fate delle domande se le avete, che così magari se può esservi chiarificato qualcosa in più. Volevo chiedere, quindi Nettunian ha anche la compassione? Ah sì, Nettunian è proprio una grande compassione, sì sì sì, una bella compassione. Poi dipende proprio dalla... Aspetta, prendi il microfono così sentono anche... Dipende anche dalla compassione, sei materna? Ah ci sono tanti tipi di compassione, certo. La compassione non ha una, diciamo, sì potrebbe anche derivare da una compassione paterna o materna. È materna, paterna, fraterna, sorerna, tutti tipi di compassione. Di sicuro quando c'è compassione non è legata ad un rapporto, come dire, personale, individuale, specifico della persona. La compassione, no, è un qualche cosa, è entrare nel pathos dell'altro e sentirlo. Quindi è un qualche cosa di più grande. Però si può avere anche compassione di se stessi? Come no? Sarebbe una cosa buona se ce l'avessimo tutti, eh, di noi stessi, compassione. Quindi compassione è sentire, sentire i nostri dolori, sentire le nostre, non le so, le nostre sofferenze, ma compassione anche al positivo. E evitare così di mettersi in crisi, con le persone, è una difesa alla fine. Quindi la compassione è per se stessi. La compassione è per se stessi, amore verso se stessi, accettazione. Però la compassione non guardiamola solo nel senso di compatire ciò che crea sofferenza. La compassione è anche verso ciò che è gioia, no? Quindi mettermi all'ascolto di me stessa, senza giudizio, e accogliermi, abbracciarmi, è con un tipo di compassione verso me stessa, verso te stessa. E trasformandolo in gioia. Sì, certo. Attraverso appunto qualche cosa di reale che non sia un surrogato come, no? Insomma, che diventa sostanza tossica. Forse se abbiamo compassione per noi, possiamo poi averla per gli altri. È più facile, è più facile averla per gli altri se ce l'abbiamo con noi. Sì, 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 sì. È molto rinforzativo. Sì, sì. Tutto ciò che noi abbiamo verso di noi è più facile poi averlo verso gli altri, eh? Quindi la compassione è ancora più, che è veramente, che poi la compassione non è legata alla compassione come anticamente si pensava fosse in Occidente. Insomma, la pietà non è quella, la compassione. La compassione è sentire ciò che tu senti, però sapendo che io sono io e tu sei tu. Perché se non c'è questo, andiamo poi a finire nello sconfinamento di cui parlavamo prima, no? Ecco, quello che voi avete fatto adesso, un attimo fa, no? Questa esperienza è stata proprio questa cosa bellissima. Un momento di compassione, perché avete accolto l'altro e poi avete dato il vostro messaggio. In un momento di unione che non era perdita della vostra identità, ma accoglienza profonda della persona che avevate di fronte. Senza giudizio, ma con discernimento. Perché molte volte noi confondiamo il discernimento con la discriminazione, sono due cose diverse. Il discernimento è pregno di compassione. La discriminazione è pregna di odio. Sono i due confini di due termini molto simili e appunto molto legati all'energia nettoniana. Io avevo domande durante, poi dopo mi viene aperto. No, perciò io dico, quando venite qua, anche le prossime, portatevi... No, ma io ce la vedo. Scusa, io sono intervenuta prima, non scusate a parlare durante. No, no, mi stavo scusando solo... No, vabbè, ma se cade... Non ti preoccupare, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Va bene, va bene. Io mi ho dimenticato poi di mettere l'avviso, che di solito lo metto sempre, ma non succede niente se l'hai fatto. No, non ti preoccupare. Io chiedo di non farlo per non perdere il filo della... Però se accade, se accade, non ci sono problemi. Veramente, stai tranquillo, non ci sono problemi. Posso farti una domanda in generale? Sì, sì, domanda quello che vuoi. Vorrei capire, no? Prima che scoprissero questi pianeti, queste energie... Da chi erano rappresentate e come venivano lette? Non venivano lette. Non venivano lette. Non venivano lette perché... Sì, sì, ti spiego perché il mondo... Ti parlo adesso dal punto di vista astrologico. Il mondo astrologico antico, il mondo astrologico antico, considerava solo ciò che era visibile. Ciò che era visibile. Ciò che non era visibile non rientrava nel mondo dell'astrologia, non veniva considerato. Questo in Occidente, invece, in Oriente, anche tutto ciò che è invisibile ha una sua grande forza. Però non si poteva nemmeno sospettare che ci fossero altri pianeti, no? Si credeva che tutto fosse finito lì, in Occidente. In Oriente si sapeva che ci fossero altri pianeti, ma addirittura altri universi, ma erano insondabili perché non c'era la possibilità di vederli, se non attraverso la spiritualità, la meditazione e queste altre cose. Prego, prego. Tutte le domande sono buone, quindi non ponetevi il problema. Va benissimo qualsiasi domanda, se ce l'avete. Se prevale qualche... Prendi il microfono così sentono anche le persone. Se prevale qualche difformità, qualcosa di negativo, ci possiamo lavorare, no? Eh sì, eh sì, dovremmo. Sì, noi, per... Per aggiustarla. E per tornare all'equilibrio. Sì, per ritrovare l'equilibrio. Sì, è quello che cerchiamo di fare tutti. Ognuno con... A modo suo, ma è quello che cerchiamo di fare tutti. Non è che ci rassegniamo, io sono così. No, no, diciamo forse, diciamo forse che non ci rassegniamo e facciamo tutto quello che è possibile in situazione. Che significa in situazione? Significa che c'è qualche cosa che io posso cambiare fino a un certo punto. Poi c'è il punto in cui io non posso. E quello è il momento dell'accettazione. La cosa è questa, che noi siamo abituati ad arrenderci troppo facilmente e c'è una grossa percentuale di cambiamento che noi potremmo attivare che non attiviamo o perché non crediamo in noi, o perché non crediamo negli altri, o perché non crediamo nel... O per tante mille ragioni che poi sono anche descritte nel tema natale di una persona. Quindi l'astrologia serve poi ad attivare queste zone latenti che non utilizziamo. Ma ricordiamoci sempre poi di non cadere nel delirio di onnipotenza. Nel senso che allora io posso tutto e posso cambiare. Io posso cambiare fino alla percentuale, fino al limite della percentuale, al confine della percentuale, che è cambiabile. Però tu dicendo che in base alle caratteristiche del mio tema natale io ho possibilità o meno di cambiare determinate caratteristiche. Puoi cambiare entro determinati gradi. No, diciamo che è sempre... No, diciamo che tu... Non esiste. Sì, esiste. Esiste. Esiste nel cambiare ciò che tu nemmeno penseresti di poter cambiare. Che però è vincolato alle variabili. Eh, ma è molto per rapporto a quello che tu non fai. È vincolato a delle variabili. È vincolato al fatto che sei un essere umano e non sei un Dio. E quindi come essere umano... No, tu e io, insomma. Lo dico a te come lo dico a te. E quindi sei vincolato al fatto di essere un essere umano, quindi che è vincolato dal tempo e dallo spazio. Esatto. Dai limiti che sono stati, no? Che sono emersi durante la creazione, diciamo così. E che quindi sono dei limiti reali. Ah, ma io non sono d'accordo sui liberabili. Non ti preoccupare. Il libero arbitrio è come un elastico. Non ti preoccupare. Il libero arbitrio è la facoltà. È la facoltà di aggiustare e cambiare ciò che è aggiustabile o cambiabile entro certi limiti. Come un topo che si può muovere all'interno della gabbia. Però è dentro quella gabbia. Oppure come un essere umano che si può muovere nell'immensità dell'universo senza essere l'infinito. No, all'interno del suo tema natale si può muovere. Sì, sì, però non è una gabbia. Perché Charles Manson, come avrebbe mai potuto non diventare Charles Manson? Come? Come avrebbe potuto Charles Manson non diventare Charles Manson? Sì, se avesse lavorato su di sé. Se avessi avuto delle caratteristiche del tema natale che gli dicevano che avrebbe... No, 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 no. Se avesse lavorato su di sé, se avesse desiderato lavorare su di sé. Praticamente, Charles Manson ha scelto. No, però che questo desiderio di lavorare come l'interesse per l'astrologia che abbiamo vengono stabilite delle potenzialità del tema natale che tu puoi sviluppare o non puoi sviluppare. Ma non solo, ce ne sono tantissime, non le possiamo vedere tutte, per cui alcune tu le prendi, altre magari sono lì e le vedi in un altro momento della tua vita, perché sono veramente tantissime. Ok? Grazie. Vabbè, ma hai il diritto di rimanere come vuoi, eh? Hai il diritto anche, per esempio, anche questo, no? Il tuo libero arbitrio, quello di non accettare la spiegazione. Non sono libero di non accettare la tua spiegazione. Perché non sei libero? Perché no, perché io non sono libero. Eh, perché non sei libero? Ma perché no, perché le mie caratteristiche non mi rendono libero di accettare la tua risposta. Ma a te piace la mia risposta? A me piace, sì, 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 però non... Va bene. Non mi risuono. Va bene. Allora, non ti risuona? E allora puoi non accettarla. Puoi non accettarla. Beh, ecco il tuo libero arbitrio, decidi di non accettarla. Ecco il tuo libero arbitrio, decidi di non accettarla e va benissimo per me. Poi sarà legato al mio libero arbitrio volerti convincere per forza o accettare che sia per te così. Per me, di natura, per come sono fatta io, Cioè a me non piace l'indottrinamento, mi piace la condivisione. Però mi piace anche che se la persona ha un altro punto di vista va benissimo, non distrugge il mio come io non distruggo il suo. È uno scambio di idee, è uno scambio di idee che va benissimo. Volevo solo riattaccarmi a quello che dici tu del tema Natale, che stabilisce, quindi è una domanda... Indica, non stabilisce. Indica. Lui è vincolante, ho capito bene? È vincolante. Le palle è in un modo diverso, insomma, va bene uguale. Non ci sono problemi. Invece di romperle, ne puoi fare qualche altro, ci puoi giocare con le palle, no? Per dire. Si può fare tante cose. Ed è che quello è il libero arbitrio, in effetti. È la possibilità di utilizzare ciò che hai in modi diversi. Questi modi possono essere neutri, distruttivi, costruttivi, inclusivi, esclusivi. Quello che hai, il tuo libero arbitrio, è utilizzare ciò che hai come tu vuoi. E questo, il come tu vuoi, non te lo dice il tema Natale, lo dice la tua coscienza, quello che tu fai. Il tema Natale è un frigorifero, io sono il cuoco che devo cucinare con quegli ingredienti. Eh, esatto. In base a quegli ingredienti. Se sono un bravo cuoco, posso fare una bella cena o una bella cena. No, oppure, non solo, ma puoi fare un tipo di cena piuttosto che un altro. Certo, quello a prescindere. Puoi fare un tipo di cena piuttosto che un altro, capito? Puoi avere degli invitati invece che altri. Eh, sì, sì. Puoi regalare ciò che hai là dentro, tenerlo tutto, oppure puoi metterlo in cantina conservato. Però sono piccolata quella roba. E quello hai. Quello. Quello hai, però, se qualcuno ti regala qualche altra cosa, la metti nel frigorifero. E quindi è questa la bellezza, no, della nostra vita, che poi attraverso l'interazione con gli altri, no, che non deve diventare lo sconfinamento di perdita di identità, ma l'empatia e il dono e l'incontro. Un po' ti, un po' perdi, un po' ti arricchisci. Allora, un po' del frigorifero lo perdi che fai la cena. Un po' magari ti portano delle cose e tu le metti nel tuo frigorifero e cambia l'assetto del tuo frigorifero. Puoi fare altre ricerche? No, però, scusa, come faccio a cambiare il mio primo Natale? Se il primo Natale è il frigorifero, lo posso cambiare? Attraverso le relazioni con gli altri, tu cambi delle cose che esistono in te perché prendi coscienza dei tuoi limiti. Non è che ci sono delle… è un gradiente il tema Natale, quindi io mi posso muovere all'interno di un gradiente, però su quel binario posso dire già. Sì, però il tema Natale non ti dice, scusami, il tema Natale non ti dice chi incontrerai. No, chiaro. Ed è quel chi… Se ti incontro mi fa muovere all'interno di questo gradiente. Ti aiuta, ti aiuta, capito, a restare nel frigorifero, a uscire dal frigorifero, a muoverti nel frigorifero, ad avere un altro frigorifero, a regalare il tuo frigorifero, a spegnerlo perché non ne vuoi più sapere dei frigoriferi, vuoi solo roba fresca, per dire. Vedi che le varianti sono tantissime, sono tantissime, e le varianti derivano dall'incontro con gli altri, perché siamo degli animali sociali. E siamo anche parte di un universo interattivo. Ogni parte di noi appartiene a tutto il resto, e tutto il resto appartiene a noi, e proprio per questo attraverso gli incontri con gli altri, nel bene e nel male, al positivo, al negativo o al neutro, dico sempre, attraverso quello cambiamo qualcosa di noi, altrimenti appunto resteremo, come tu dici, prigionieri del nostro tema natale. E non è così, no? La bellezza è proprio quella. Ebbè, dai, è più che una speranza, dai. Ma anche lì, se la vuoi cogliere. Beh, c'è un'occasione, una speranza, quello che vuoi. Diciamo così un sorriso verso l'universo, via. E l'universo in questo momento, sotto questa volta siamo noi qui, in questa sala, in questa stanza, in questo momento siamo noi l'universo. Poi c'è anche altrove, ma il fatto di essere con tante persone, no? Che hanno condiviso un momento molto bello, magari con qualche attimo di noia, con qualche attimo difficile, ma in linea di massima molto bello, è qualche cosa che ti permea in ogni modo. No? Non cambierà la tua vita, perché se bastasse un incontro qua giù per cambiare la nostra vita, insomma, qui non chiuderemmo più, staremmo sempre qui. Staremmo sempre qui e, ecco, allora in quel caso dobbiamo cadere il delirio di onnipotenza, pensando che ci incontriamo, cambiamo e tutto si è risolto. E' un'occasione, come dicevi tu, è un'occasione, un'opportunità per migliorare o peggiorare, certo, anche, difende da te. Sì. Allora, se sentiamo che stiamo cadendo un po' nella vibrazione, quella di Nettuno, che dà smarrimento, Eh, eh, nella parte, diciamo così, confusa di Nettuno. Sì, esatto, che diciamo, è più, forse comune, che può succedere. Come, come no? Tu mi hai detto che Nettuno ha bisogno di Saturno, perché comunque... Però, quando tu sei un po' confuso, che non sai da che parte un po' muoverti, tendi a fermarti, a meno che, ecco, non si vedono patologie di cui abbiamo visto prima, però Saturno ti può ancora bloccare di più. Se lo vedi come bloccante, Saturno, se lo vedi come fautore di ordine, praticamente, quando tu ti stai perdendo, no? Che perdi confini. Sì, che non sai. Facciamo un esempio proprio semplice. Tu perdi i confini, tu perdi i confini, quindi perdi il punto di riferimento. Sì, quello che era certo. Ora, Saturno, una delle cose belle di Saturno, è che Saturno ti dà lo schema della situazione in cui ti trovi. Quindi ti ridà il punto di riferimento. Quindi trovi il punto di riferimento e ti puoi orientare di nuovo nello spazio. Quindi calma e gesso, riposizioniamo. L'importante è appunto anche Saturno, Saturno ha questa sua parte, diciamo così, estremamente strutturata e strutturale, che ti dà la struttura e ti dà la possibilità di difenderti e di fare tutte queste cose e di cambiare anche. Poi ovviamente se diventa rigido Saturno, e lì poi no, non va bene. Ecco perché Nettuno e Saturno insieme si aiutano bene, perché Saturno rende più, come dire, rende più terreno, rende più strutturato Nettuno. E Nettuno dà un attimo più di dolcezza e di apertura a Saturno. Ecco perché insieme sono due energie che lavorano bene. Sì. Sì, si prende il microfono, perché è bello che sentano anche gli altri. Su questa cosa, ti chiedo una cosa, io ho la mia risposta da parte del mio percorso. Sì, sì, certo. Quindi appunto dici che Nettuno può essere in un certo senso, quando c'è il momento di confusione, può essere illusorio, diciamo. No, no, aiutato da Saturno, no? E viceversa. E viceversa. Nel caso mio, come pratica, utilizzerei una meditazione sugli spiriti planetari, sugli arcangeli o gli angeli collegati a questi due aspetti. Sì, utilizzi ancora Nettuno. Utilizzi ancora Nettuno. No, è mai risposto. Non è Saturno quello, è Nettuno. Altre domande? Penso che allora possiamo chiudere, se non avete altre domande. Allora, la prossima conferenza, ho chiesto a Elisa la cortesia di farla un po' più tardi, perché è un impegno tutta la giornata. Quindi la prossima conferenza, che è il 16, è alle 18 e 30, non alle 17 e 30. Bene?